Grazie a tutti Ascoltatemi un attimo L'idea è proprio di sostenere la terra Quindi Guardatemi tutti per favore Piedi flessi In flex Come se fosse appoggiato in terra Se riuscite Anche le braccia leggermente flessi Paralleli non a V Ok Allora mettetevi più in qua Posizionaci tu Lui è troppo a sinistra Deve che c'è il senso Uno Due Tre Uno Due Tre Uno Due Tre 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 Grazie a tutti